Buongiorno a tutti, intanto vorrei ringraziare tutta l'amministrazione comunale che sono qui a ricevere questo bellissimo premio e a tutti i fan club e tutti quelli che hanno creduto in me da quando ho iniziato questo bellissimo sport che dire, è stato un mese di fuoco in cui ho avuto grandi emozioni come ha detto il sindaco, già dai primi giorni ho indossato la maglia blu ma ci tenevo soprattutto a passare davanti nella tappa di casa anche se non siamo passati proprio dal comune di Recello ma i recellesi c'erano, i recellesi c'erano tutti ci tenevo a passare davanti e è stata veramente una grande emozione per poi, come ha detto anche l'assessore sono stato di forte appoggio al mio compagno fortunato che ha vinto la tappa regina, forse, del Giro d'Italia quindi per noi è stata una grande soddisfazione, una grande emozione e adesso comunque la stagione non è finita e spero di trovare anche una vittoria da parte mia quindi non solo di essere in supporto ma anche di trovare una soddisfazione personale e quindi volevo ancora ringraziarvi e buona giornata grazie grazie grazie